ricordo di aver conosciuto le puff nel 2022 a giorno 2022 ho visto mia sorella di utilizzarle e di lì ho iniziato anch'io e non le ho più lasciate le trovo molto pratiche poiché posso tranquillamente prenderle dalla borsa dalla tasca e fumarle senza bisogno di alcun oggetto aggiuntivo come accendini o altro però vorrei tanto smettere di fumarle ho sentito in giro che fanno più male delle sigarette e c'è anche un altro problema non so mai dove buttarle alla fine le gettono indifferenziata ma sono consapevole del fatto che sia sbagliato a gettarle lì